E quante volte Cesare dovrà sanguinare su scene di teana, come guidando adesso in questo nostro carcere. Il male che un uomo fa sopravvive alla sua morte e spesso è sepolto con le sue ossa e così sia anche per Cesare. Ho ucciso il più amato fra gli amici e l'ho fatto per il bene di lui. Quella stessa arma è pronta per me stesso se è quando la mia patria necessiterà della mia morte. Se fosse il migliore, pure se fosse l'importante, qualche ira ci vese importante. L'odore di monarchia a te piace a pochi. Bruto è da sapere chi si trova al centro delle attese e delle speranze del popolo di Roma. Nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso. Se lo era, la sua colpa è stata grave. E a Cesare di quanto è accaduto oggi sfugge qualcosa. Libertà! 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 Libertà!